La polizia municipale di Arezzo di nuovo sul posto della tragedia che ieri si è portata via una giovane vita, una ragazza di 22 anni morta in un incidente stradale lungo la regionale 71. Federica Canneti, 22 anni, di Castiglion-Fiorentino, è morta sul posto in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. Sono le 23.45 quando a bordo di un'auto con all'interno altri quattro amici sta percorrendo la regionale 71 verso Arezzo. All'altezza dell'abitato di Vitiano lo scontro che ha coinvolto tre macchine, sul posto la polizia municipale, i vigi del fuoco e i sanitari. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che anche questa mattina ha chiuso la regionale 71 per effettuare altri rilievi. Pare che l'auto su cui viaggiava Federica abbia invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare. Dalla direzione opposta sono sopraggiunte altre due auto che hanno urtato l'utilitaria. Per Federica al momento dell'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Il ragazzo che guidava, un 23enne, ha avuto una prognosi di 10 giorni così come un altro coetaneo e un'amica di Federica. Un quinto ragazzo, invece anche lui ventenne, è ricoverato in prognosi riservata alle scotte di Siena. Nelle altre auto unica è illesa una bimba di tre anni che viaggiava con la madre, anche lei ferita lievemente. In prognosi riservata anche il 37enne che guidava la terza auto e la compagna di 32 anni che ha avuto una prognosi di 30 giorni. Federica era molto conosciuta in paese, sportiva e sempre presente nelle attività del rione. Alla famiglia sono arrivate anche le condoglianze da parte del sindaco Mario Agnelli.